Cade dalla scala e si ferisce gravemente, 69 è trasportato all'area civile in codice rosso. Raffaella Ragnoli rimane in carcere, il GIP ha convalidato l'arresto per l'omicidio del marito Romano Fagori. L'unica tappa in Italia di Kent in Tarantino sarà al Teatro Grande di Brescia, l'appuntamento il prossimo 6 aprile. Finita la sessione di riparazione del calciomercato, i tifosi bocciano la campagna acquisti di Cellina. Investire significa costruire il proprio futuro ed è possibile anche in una situazione come quella attuale. Il mercato azionario nel lungo periodo ha sempre dato ottimi risultati, ma come è possibile sapere il giusto timing di entrata? La risposta è facile, il market timing perfetto è oggi, con un piano d'accumulo, una formula di investimento che attraverso il versamento di piccole somme mensili ti permetterà di strutturare il tuo futuro finanziario nel corso degli anni. L'opportunità è il nostro fondo RICSAVE Global Equity Value. Per saperne di più, chiama o vieni a trovarci. Buonasera dal telegiornale, purtroppo dobbiamo aprire ancora una volta con un infortunio sul lavoro grave, un 69enne caduto da una scala ricoverato in codice rosso al civile di Brescia. Vediamo i dettagli. Un nuovo grave infortunio sul lavoro in provincia di Brescia, un uomo di 69 anni è rimasto ferito a seguito di una caduta in un'azienda di Cellatica. L'incidente è avvenuto attorno alle 13.30 nello stabilimento di Via Guido Rossa in cui vengono realizzati prodotti cosmetici. L'uomo, un artigiano, è caduto da una scala precipitando da un'altezza di due metri e mezzo. L'impatto con il pavimento è stato molto violento. Il 69enne ha riportato un trauma cranico e sono subito stati allertati i soccorsi in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i sanitari con ambulanza e automedica. Dopo la stabilizzazione, l'infortunato è stato trasportato d'urgenza al civile di Brescia. Presenti anche i carabinieri di Gardone-Valtrompia e il personale di ATS. Un malore che ha colpito un escursionista a nave. Vediamo. Non c'è stato nulla da fare per un uomo di 67 anni morto a causa di un malore nel tardo pomeriggio di martedì a nave. L'allarme è stato lanciato attorno alle 15.30 per un escursionista trovato privo di sensi lungo il sentiero che da nave sale verso il santuario di Conche, a circa 800 metri di quota. La centrale operativa ha mandato sul posto le squadre del soccorso alpino e spereologico della Lombardia, sette i tecnici impegnati e l'elissoccorso di Areu. Una volta raggiunto il punto indicato, però, il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. In accordo con la centrale, il soccorso alpino e i vigili del fuoco hanno trasportato a valle l'uomo con la barella portantina. L'intervento è terminato attorno alle 20.30 con il rientro delle squadre. Vi porto sul nostro giornale online per un'altra notizia di cronaca. Di oggi pomeriggio è stato ritrovato il corpo di Iana, fra Lonato e Castiglione delle Stiviere. Andiamo sul giornale online livebrecia.tv. È stato trovato oggi, poco prima delle 16, il corpo di Iana Malaico, la 23enne ucraina, uccisa dall'ex fidanzato. Il 20 gennaio scorso il cui cadavere era stato nascosto. A riportare la notizia è stata l'agenzia ANSA. Il corpo nascosto tra i rovi era in un campo al confine tra la provincia di Mantua e quella di Brescia, poco dopo il cartello di Lonato alle spalle di un'azienda flora vivaista. A trovare il corpo di Iana sono stati i carabinieri durante una battuta insieme ad alcuni volontari. Sul posto c'è anche il procuratore capo di Mantua, Emanuela Fasolato. In un comunicato congiunto, Procura della Repubblica di Mantua e i carabinieri hanno annunciato il ritrovamento del corpo di Iana, spiegando che alle 15.15 di oggi, all'esito di interrotte ricerche anche a Castiglione del Stiviere, in via del Benaco, nei pressi di una centrale elettrica, sotto una catasta di legna, una squadra di carabinieri ha individuato il corpo verosimilmente appunto della giovane, scomparsa, uccisa e scomparsa nel nulla. Tutti i dati e i dettagli li trovate nell'articolo sul nostro giornale online livebrescia.tv E rimaniamo con la cronaca spostandoci alla vicenda di Nuvolento, l'omicidio dell'uomo di Romano Fagoni sabato sera ad opera della moglie che rimane in carcere per decisione del GIP. Raffaella Ragnoli rimane in carcere, il GIP del Tribunale di Brescia ha infatti convalidato l'arresto della donna di 57 anni, accusata di aver ucciso il marito Romano Fagoni nella serata di sabato a Nuvolento. Martedì la donna è stata sottoposta nel carcere di Verziano all'interrogatorio di convalida. La Ragnoli avrebbe risposto alle domande del GIP e pare che abbia sostanzialmente confermato quanto confessato agli inquirenti nelle ore successive al delitto. Sebbene viga il massimo riservo, sembra che la donna abbia puntato sulla legittima difesa. Avrebbe aggredito infatti il marito per difendere il figlio 15enne, unico testimone dell'omicidio e primo a chiedere aiuto. Attualmente però la procura esclude la tesi della legittima difesa, visto che la Ragnoli è accusata di delitto volontario. Voltiamo pagina, apriamo la pagina politica con Unione Popolare che ha protestato quest'oggi davanti alla Prefettura di Brescia per la loro poca visibilità, soprattutto dei media, in questo caso nazionali. Unione Popolare perché protesta? Siamo qua perché pretendiamo una pari condizione rispetto agli altri partiti che si presentano. Abbiamo fatto un grosso sacrificio a raccogliere le firme, che è stato difficile, le abbiamo raccolte. Ci siamo presentati legalmente come di dovere. Adesso pretendiamo anche di avere, soprattutto negli spazi pubblici, lo stesso spazio che danno agli altri candidati. Soprattutto ci troviamo molto danneggiati riguardo alla Ghidorzi, alla nostra candidata, la Mara Ghidorzi, che spesso non viene chiamata nelle televisioni pubbliche, spesso non viene chiamata, non si capisce bene per quale motivo e questo dovrebbe essere il minimo che una democrazia dà per far sapere ai cittadini che cosa proponiamo, che cosa vogliamo e quali sono le nostre iniziative che facciamo. Questo manca, è mancato e siamo qua a protestare per questo motivo. Siamo venuti in Prefettura perché il referente del governo è la Prefettura e quindi abbiamo chiesto a voi di darci un po' di spazio in questo senso in quanto abbiamo bisogno di far conoscere il nostro simbolo, i nostri propositi, le nostre azioni, eccetera, eccetera. Vi posso anticipare che Mara Ghidorzi sarà invece il nostro ospite a Prisma il prossimo lunedì, lunedì 6, a partire dalle 21, lei assieme ad altri candidati ovviamente che si presenteranno alle elezioni regionali. E ai candidati che si presenteranno alla prossima competizione elettorale, oggi l'Ordine dei Medici Odontoiatri di Brescia ha mandato un messaggio preciso frutto di un'indagine interna tra gli iscritti all'Ordine che hanno deciso di chiedere alla politica alcuni impegni precisi. Abbiamo fatto un sondaggio a cui ha risposto il 20% dei nostri medici che è un dato dal punto di vista della significata statistica alto, 1500 su 8000 circa. e abbiamo fatto una serie di domande chiedendo a loro quali erano, a loro giudizio, le criticità e quali soluzioni si potevano proporre. A chi governerà, noi non sappiamo chi, nella prossima consigliatura la regione Lombardia. Cosa è emerso da questo sondaggio? Sono emersi dei dati che presumevamo emergessero, testimoniando anche un idone sentire fra il Consiglio Direttivo e la nostra comunità. Primo dato, la burocrazia. C'è un 90% di medici che dice che la burocrazia è diventata ormai soffocante, che impegna tantissimo tempo, secondo alcuni studi sia in ospedale che sul territorio, intorno e se non sopra il 50% del tempo lavorativo. E nel contempo i medici chiedono la riduzione della burocrazia per avere più tempo di stare con i pazienti. La necessità di integrazione tra medicina del territorio e medicina dell'ospedale non ha senso una frattura fra le due realtà, perché il malatto è sempre uno. E questo come può avvenire? Può avvenire, e anche la stragrande maggioranza dei medici intervistati lo ribadisce, attraverso dei sistemi informatici, che sono l'asse portante della comunicazione fra i vari sette in di cura, che siano all'altissima efficienza. Il sistema sanitario nazionale, se vogliamo, è una conclusione che molti dicono che sta diventando insostenibile e quindi che potrebbe anche, sotto certi febri, soccombere, secondo noi invece si è riformato radicalmente, ma adeguatamente, può di tutto essere sostenibile perché è uno degli elementi fondamentali che noi riteniamo per una società giusta. Il 2023 ci sta regalando come Bresciani grandi soddisfazioni, partire ovviamente dalla capitale della cultura di quest'anno e in quest'ambito ci sarà un appuntamento assolutamente da non perdere ad aprile al Teatro Grande, perché sarà l'unica tappa in Italia che farà. Stiamo parlando di Quentin Tarantino. Definirlo leggenda non è affatto fuori luogo. Quentin Tarantino, regista di film cult come Le Iene, Pulp Fiction, Kill Bill e molti altri, sarà a Brescia il prossimo 6 aprile. Un evento imperdibile che si inserisce nel palinsesto di capitale della cultura. Il celebre regista statunitense sarà al Teatro Grande per l'unica data italiana di presentazione del suo tanto atteso primo lavoro di saggistica, Cinema Speculation, definito un libro di cinema incredibilmente divertente e perfidamente intelligente, unico e creativo come solo il regista sa essere. In questo evento dal vivo, il regista premio Oscar approfondirà una fascinante discussione incentrata sui principali film americani degli anni 70, che vide all'epoca per la prima volta da giovane spettatore. Con la sua vibrante immaginazione e la dedizione alla narrazione riccamente stratificata, Tarantino offre una rara prospettiva sul cinema, possibile solo da uno dei più grandi interpreti di sempre di questa forma d'arte. Offrirà inoltre al pubblico una lettura dal vivo di un estratto del suo nuovo libro. Circoletto rosso sul calendario quindi non solo sul 6 aprile, ma anche sul 14 febbraio, quando aprirà la prevendita dei biglietti, che sicuramente andranno a ruba. Qualche giorno prima del 14 febbraio, stiamo parlando delle 10, invece altro appuntamento da non perdere nell'ambito di Bergamo-Brescia, capitale italiana della cultura, sto parlando di Light is Light. Si avvicina sempre più Light is Life, la festa delle luci, che è fra gli eventi più attesi dei primi mesi di Bergamo-Brescia, capitale della cultura. La nostra città sarà protagonista dal 10 al 19 febbraio, con il castello centro del tutto. Per questo motivo ci sarà la necessità di un lungo allestimento con qualche disagio. A partire da mercoledì 1 febbraio sarà infatti chiuso il parcheggio sferisterio sul Collecilneo, e così sarà fino alle 22 di mercoledì 22 febbraio. Lo sancisce un'ordinanza della Polizia Locale di Brescia, che impone divieto permanente di sosta con rimozione forzata in tutto il piazzale dalle ore 6. Due ore dopo, lo stesso parcheggio sarà completamente interdetto al traffico e vi potranno accedere soltanto i veicoli necessari all'organizzazione, contrassegnati da un apposito logo di riconoscimento. Ne varrà la pena per godersi uno spettacolo unico che non abbraccerà solo il Falcone d'Italia, ma altri luoghi simbolo della città di Brescia. Da piazza della loggia il percorso del festival accompagnerà il pubblico verso il Capitolium, dove sarà collocata la prima installazione luminosa, una scultura ispirata alla celebre Vittoria Alata, rivista in chiave contemporanea. Da lì si verrà accompagnati in castello, dove troveranno casa 14 installazioni luminose. Infine, la luce toccherà anche il termovalorizzatore. Durante tutta la durata del festival, la sua torre sarà illuminata di blu e avrà sulla sommità uno sky laser appuntato proprio verso il castello. Abbiamo parlato anche in passato, qualche settimana fa, del progetto della Valle a Idrogeno, Val Camonica, con treni a idrogeno nel 2024. Ora c'è un aggiornamento in proposito, vale dire a inizio del 2024, secondo Regione Lombardia, ci saranno le prime corse. Qualcosa era già stato anticipato inizio anno dall'assessore regionale ai trasporti, ma ora arrivano più dettagli. Nei primi mesi del 2024 entreranno in servizio i primi treni a idrogeno sulla linea ferroviaria Brescia-Iseo-Idolo. Ad annunciarlo è stato il Bresciano e Camuno Davide Caparini, che in una nota parla di sei nuovi convogli in fase di realizzazione, la cui consegna avverrà entro l'anno. La prima fase prevede anche l'imprescindibile impianto di produzione di idrogeno a Iseo. La seconda fase del progetto si aprirà con la consegna di altri otto convogli in modo da completare la sostituzione dell'intera flotta. È inoltre prevista la realizzazione di uno oppure due ulteriori impianti di produzione di idrogeno nella zona di Brescia oppure di Edolo entro il 2025. La terza e ultima fase vuole spingere l'idrogeno al di fuori delle rotaie utilizzandolo anche per i mezzi di trasporto diversi dal treno, a partire dai 40 autobus gestiti da Ferrovie Nord in Valle Camonica. L'investimento per la fornitura dei sei elettrotreni prodotti da Alstom alimentati a idrogeno, con opzione per la fornitura degli altri otto per l'intera flotta, vale oltre 160 milioni di euro. L'investimento complessivo è di 300 milioni di cui 140 per i tre impianti di produzione, stoccaggio e distribuzione dell'idrogeno. Parliamo dal meteo, vi siete accorti sicuramente insomma del clima che è tornato molto piacevole insomma nella giornata di oggi, in particolare con l'olino del termometro che è arrivata anche a 12 e più gradi nella giornata di quest'oggi. Ma è un apparente, vi porto sul nostro giornale online livebrecia.tv perché secondo il terbi meteo infatti avremo una settimana solleggiata ma dopo torna di nuovo il freddo. I giorni della merla sono finiti con il gelo mattutino ma il sole di giorno. Con il passare delle giornate il tempo ci darà un assaggio di primavera sebbene con temperature un pochettino più rigide ovviamente della primavera in attesa di capire se poi questa situazione varierà per lasciarci nuovamente spazio all'inverno. L'anticiclone proteggerà un po' per tutta la settimana l'Italia così come nel weekend, attenzione però domenica quando qualcosa potrebbe probabilmente cambiare e riportarci un po' di freddo. Staremo un po' a vedere con gli aggiornamenti anche di trebi meteo come di consueto. Brevissima pausa, apriamo il Tg Sport, dobbiamo parlare del calcio mercato lo facciamo fra 30 secondi. Pagli i bollettini e prelevi contante se hai i tributi o fai un bonifico. Home Jerry, facile, veloce, aperto tutti i giorni, festivi esclusi in via degli Alpini 33 a San Polino, Brescia. Buona serata gli amici sportivi, partiamo dal calcio mercato, fine e come sapete ieri alle 20 scattata la campanella, il gong di chiusura di quello che viene appunto definito la sessione di riparazione del calcio mercato, quella d'inverno, ma che non ha entusiasmato indubbiamente i tifosi del Brescia che bocciano quanto fatto appunto dal presidente Cellino e dalla squadra. Le ufficialità fra entrate e uscite nell'ultimo giorno di calcio mercato non sono certo mancate, in generale però la sessione invernale viene giudicata da più parti insufficiente, con particolare riferimento al mancato arrivo di una punta di peso in sostituzione di un Moreo ceduto a titolo definitivo al Pisa. L'ultima ufficialità in ordine di tempo è arrivata nella mattinata del day after. Dall'Oxer arriva il difensore Alexander Coef, il centrale classe 1992, dopo tutta la trafila nelle giovanili della Francia di cui è stato anche capitano dell'Under 20, è cresciuto nell'ENS per poi essere acquistato dall'Udinese. In carriera ha vestito anche le maglie di Granada, Mallorca, Ajaccio, Brest e Larissa. Coef, nella prima parte di stagione, ha disputato con l'Oxer in Ligan sette partite. Due gli addi dell'ultimo giorno, Vincenzo Garofalo, finito in prestito con diritto di riscatto al Trento in Serie C, mentre Benali è stato ceduto definitivamente al Bari. Percorso inverso, Peruscavone, nuova pedina d'esperienza per il centrocampo bresciano, preoccupa però il fatto che non giochi da diverso tempo. Erano invece già assodati da giorni i tre arrivi, tutti da Lecce, di Bjorkengren, Listoski e Rodriguez. La lacuna più grande rimane quindi l'attacco, niente da fare per i vari Stulic e Sibilli. La rosa è definita e saranno questi i giocatori a dover lottare a questo punto per una salvezza da non mancare. Importante la vittoria della Germani contro il Bourges perché interrompe un digiuno abbastanza lungo e soprattutto ridà grande fiducia ed entusiasmo alla squadra. Una lieta serata francese per la pallacanestro Brescia che finalmente riesce a trovare la vittoria dopo cinque sconfitte di fila. In Euro Cup contro Burgen-Bress finisce 66-74, una boccata d'aria per la classifica del girone che vedeva ben più avanti i francesi e soprattutto per il morale della squadra. Brescia riesce a portare a termine nel migliore dei modi una partita controllata fin dalla palla a due, in cui è stata capace di contrastare efficacemente i tentativi di rimonta dei padroni di casa. La parola chiave è stata difesa, visto che i francesi sono soliti dilagare nel punteggio con circa 85 punti di media a partita. Settimana scorsa, ad esempio, ne hanno segnati 41 in un solo periodo. La Germani riesce invece a bagnare le polveri di Burg e a limitare i punti a 66. Dall'altro lato del campo i soliti noti questa volta fanno il loro. 19 punti e 4 triple per Gabriel, 16 punti per Della Valle, 12 per Nikolic e Massimburg. Dopo due settimane di nero assoluto torna quindi a sorridere anche la classifica continentale. Il prossimo incontro contro il Cluj diverrà di fatto decisivo in ottica qualificazione. Prima, però, bisogna pensare alle vunere di Scariolo in campionato. sarebbe importante aprire una striscia positiva e di certo Bologna non era l'avversario migliore per questo momento, ma provarci è imperativo. con noi per aver scelto il nostro telegiornale anche oggi. A tutti l'augurio di una buona serata, appuntamento domani.